La T-Group ha un principio fondamentale, il benessere dei propri dipendenti. La T-Group ha realizzato che per avere un'azienda più produttiva e soprattutto avere dei dipendenti soddisfatti doveva necessariamente intraprendere delle iniziative volte a migliorare il benessere non solo fisico ma psicologico e anche nella vita sociale dell'impresa. La T-Group ha deciso di avviare un progetto di welfare aziendale in collaborazione con la banca intesa mettendo a disposizione dei propri dipendenti un'erogazione liberale sotto forma di credito welfare da poter utilizzare nell'acquisto di beni e servizi attraverso la piattaforma di banca intesa. Il piano welfare comprende anche una stipula di una copertura assicurativa a garanzia della vita mettendo a disposizione un capitale finanziario per ogni dipendente. E io credo che questa iniziativa un po' renda l'idea di quello che rappresenta oggi il capitale umano per la T-Group. Il programma è partito in via sperimentale proprio per avere la possibilità di misurarne ecco i risultati e oggi a distanza quasi di un anno il programma, il progetto è stato accolto positivamente. Oggi stiamo già lavorando al nuovo progetto di welfare aziendale per il 2023. L'obiettivo per il futuro è riuscire a migliorare le relazioni all'interno dell'azienda. Oggi è una grande famiglia all'interno della quale ogni dipendente sa di poter conciliare, avere la possibilità di conciliare la propria vita privata con quella lavorativa. Grazie. 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 Grazie.